Eccoci qua, intanto grazie perché ci avete seguito in tantissimi ieri sera, quindi veramente grazie. Marco Travaglio, comincio con te, perché il giorno dopo la scomparsa di Berlusconi fa discutere la scelta del governo di proclamare domani una giornata di lutto nazionale. Non è una scelta giusta? Ma c'è ben di più e di peggio. Ci sono sette giorni di lutto parlamentare in cui si è deciso di sospendere le votazioni, cioè il Parlamento che si ferma, nemmeno è successo quando è stato assassinato Aldo Moro, c'è un impazzimento collettivo, stanno dando i numeri, ci sono queste processioni televisive incessanti in cui si cancella tutta la storia. Il lutto nazionale lo proclami, come ha detto giustamente Rosi Bindi, per persone nelle quali tutti gli italiani si riconoscono e si identificano. Berlusconi ha spaccato l'Italia volutamente, ha insultato i suoi avversari politici per 30 anni, ha criminalizzato i magistrati, non ha riconosciuto le leggi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma è veramente una cosa che appartiene soltanto al mondo della psichiatria, della follia. Ma intanto, come al solito, Marco Travaglio mistifica la realtà. Questa settimana non erano previste votazioni, quindi tanto per cominciare. Dopodiché, dottoressa Gruber, l'ha detto lei, per un uomo che ha inciso così tanto sul sistema politico italiano, che è stato quattro volte Presidente del Consiglio, che ha governato più di chiunque della prima e della seconda Repubblica, più di De Gasperi e più di Andreotti, che ha avuto un ruolo internazionale, e i giornali internazionali di questi giorni lo confermano, perché non avrebbe il governo dovuto organizzare i funerali di Stato. Ma il problema non sono i funerali di Stato, ma proclamare una giornata di lutto nazionale, no? Ma l'ha vista la reazione popolare di fronte alla morte di Berlusconi? Se ne è resa conto? Lei penso di sì, è una donna moderna, guarderà i social, guarderà i giornali internazionali, i blog, il web. Quindi io non credo che sia stato un errore, io penso che sia stata una cosa giusta, dopodiché della storia di Berlusconi, grazie al cielo, dirà la storia. Ecco, a proposito della stampa internazionale, interpello subito John McElwade, perché tu prima di diventare direttore di Bloomberg International sei stato direttore dell'Economist, il settimanale, che ha pubblicato diverse copertine su Silvio Berlusconi, tutte diciamo senza appello. Oggi dai un giudizio più morbido e cos'è che noi italiani non abbiamo capito di Berlusconi che invece voi all'estero avete capito da tempo? Due cose, ovviamente quando viene a mancare qualcuno c'è tristezza, ma per quanto attiene la mia valutazione su Silvio Berlusconi non c'è stato alcun cambiamento. La cosa interessante riguardo Berlusconi è stata che quando è stato eletto sarebbe stato diventato la Thatcher d'Italia. Invece è diventato il Donald Trump d'Italia, ha raggiunto molto per quanto attiene il populismo, però se lo paragoniamo a Trump o Boris Johnson, lui è stato unico, ha raggiunto risultati minimi in politica. Lui voleva riformare il paese e ha raggiunto il tasso più basso della crescita. La crescita in Italia ai tempi di Berlusconi era a livello dello Zimbabwe. Berlusconi era molto concentrato sui propri interessi, ha seguito soltanto i propri affari e ha fatto davvero poco per l'Italia. È stato un peccato e sicuramente avrebbe potuto fare di più come hanno fatto nel loro piccolo Johnson e Trump. Io sono abbastanza demoralizzato perché il servivismo, devo confessare, che un pochino mi ha sorpreso. E quello che sta mancando è una lettura onesta, non possiamo rinnegare quello che abbiamo detto per 30 anni. Uso di nuovo forse un aggettivo che non vi aspettate. Io credo che sia stato John McElwet, che saluto e conosco, ha parlato dell'economia. Io parlo di un'altra cosa e dico che secondo me è stato un capo di governo e un leader diseducativo. Lui è stato il rabdomante delle nostre debolezze. Le ha capite benissimo perché ho un'intuizione paranormale. Anche un uomo simpatico. Quando ero lì da te l'ultima volta, Lilli era ossessionato dai miei capelli. Contenava a dire che erano finti, me li tingevo. Ti ricordi, io dicevo, presidente, invidia. Quindi era anche un uomo simpatico. Però era un rabdomante delle debolezze italiane. Debolezze morali, fiscali, edilizie, sessuali, qualsiasi cosa. Non è, secondo me, un leader che ci ha aiutato a crescere. E poi, magari ne parliamo dopo, ha incoraggiato tutti gli stereotipi su di noi all'estero. Tutto questo si può dire senza odio e senza, ripeto, però servilismo. Perché purtroppo quello che sto vedendo, cioè ci sono delle... Ascolto cose in televisione e leggo cose che in confronto Papa Giovanni era un monellaccio. Allora, Marco Travaglio, a proposito di essere leader diseducativo, diciamo che una delle cose per le quali l'Italia di Berlusconi è diventata famosa all'estero subito sono state, diciamo, le sue cene eleganti, ribattezzate in Bunga Bunga Party. E hanno fatto il giro del mondo queste parole e non ci ha portato probabilmente molto bene anche la credibilità del Paese a livello internazionale. Ti vorrei chiedere, siccome la moglie ex ormai, Veronica Lario, ha detto delle parole pesantissime su di lui e sulle sue variegate compagnie femminili, è stato quello l'inizio della fine politica di Berlusconi quando ha deciso di parlare in modo così schietto, duro e aperto Veronica Lario? Rispondo sì e aggiungo purtroppo, perché quella è la cosa meno grave dal punto di vista dell'etica pubblica. Io stamattina ho fatto il coccodrillo di Berlusconi, anzi del Caimano, quindi era il coccodrillo del Caimano e l'ho lasciato scrivere a lui. È un articolo che è tutto citazioni di Berlusconi. Il nostro collega britannico ci può testimoniare che anche soltanto una di quelle due o trecento cose che ho citato stamattina, che ha detto e fatto lui una sola in un altro paese avrebbe segnato la fine per sempre di un premere e di un leader politico. Noi le abbiamo tollerate tutte fino a quando abbiamo scoperto che si circondava di ragazze e alcune minoreni e le pagava, cosa gravissima anche alla luce di una legge che aveva fatto lui e che lo ha portato sotto processo, perché il processo è nato da una legge che hanno fatto la Carfagna e la Prestigiacomo, che avevano aggravato le pene per la prostituzione minorile. Ma la cosa grave è tutto quello che non ha prodotto crisi di consenso e che è infinitamente più grave. Se avesse fatto solo quello lo capirei, ma ha fatto infinitamente di peggio. Non ha pagato soltanto le donne e le minorenni, ha pagato craxi, ha pagato ministri, ha pagato testimoni, ha pagato finanzieri, ha pagato giudici, ha pagato senatori perché cambiassero campo e tradissero i loro elettori e alla fine si è scoperto che pagava anche delle ragazze e quindi ci siamo indignati. Perché ci siamo indignati? Un po' perché siamo un paese ipocrita e un po' perché quegli scandali sessuali si sono incrociati con il fallimento dell'economia, con l'estate dello spread. Perché la vera verità è che questo leader che ha cambiato l'Italia in realtà non ha lasciato una sola riforma che abbia migliorato la vita di qualcun altro che non fosse lui. Se uno va in giro a chiedere dimmi una riforma che Berlusconi ha lasciato e che ha fatto bene all'Italia, non se ne ricorda nessuna nessuno perché non ne ha fatte. Ha fatto 60 leggi ad persona per gli affari suoi. Punto e basta. È un fallimento totale. È questo che manca completamente nel dibattito salivare di questi due giorni. Allora, non credo di peccare di servilismo perché sa, a me l'ubbidienza non è stata insegnata se dico che le cose buone fatte sopravvanzano gli errori commessi di quell'uomo. Comunque, grazie al cielo la storia dirà, lo dirà per tutti. Ma per esempio, senatrice Craxi, per esempio si chiedeva prima Travaglio una riforma importante che ha fatto Silvio Berlusconi che ha lasciato a questo paese. Beh, c'è un pezzo di questo paese che è un paese conservatore, che alle riforme si è sempre opposto. Silvio Berlusconi per questo paese ha fatto tante cose. Ha cambiato l'economia del paese, ha dato stabilità al centrodestra, ci ha consegnato un bipolarismo che ha dato più stabilità al sistema. Quindi tante piccole e grandi cose le ha fatte. Senta, senatrice Craxi, le posso chiedere perché lei è un esponente importante di primo piano da tanti anni di Forza Italia. Oggi si è riunito il comitato di presidenza e ha ratificato alcune nomine. Intanto le voglio chiedere perché questa fretta di ratificare... Oggi è il giorno del dolore. Per ragionare di politica ci saranno i prossimi giorni, le prossime settimane. Ma a me non mi risulta che sono state ratificate nomine oggi. So che c'è stata una riunione perché c'era da ratificare il bilancio. Questo sì. Vabbè, qui insomma non è al corrente. Non è risulta nemmeno che stamattina la conferenza dei capigruppo ha deciso di bloccare le votazioni per sei giorni e ha detto che la mia era una fake news. Si informi perché è quello che è successo stamattina e adesso ne stanno parlando le opposizioni. Se ne parla da tutto il giorno in Parlamento, non so lei dove era. John McElwaite, qual è secondo te il contributo alla vera eredità politica di Berlusconi? Beh, io penso, io no no, assolutamente. È stato un uomo di buona natura. Ha molto meglio di altri populisti. Ha stabilito una tradizione. Ha abbassato gli standard della politica. ha dimostrato di essere anche dotato di un senso dell'umorismo e arrivando anche a essere un clown. Ha dimostrato la sua intelligenza. E probabilmente voi vi siete sentiti attratti dalla sua capacità di imprenditore. Ha avuto molto più successo come imprenditore. Ma il problema è che non ha fatto niente per l'Italia. Nemmeno a livello internazionale, John? Penso che a livello internazionale è che ha creato un populismo che si è diffuso verso altri paesi. Ha costruito una politica attorno alla sua persona. Non c'è bisogno di Beppe per descrivere cosa è successo all'interno di Forza Italia. John, ci conosciamo, abbiamo anche lavorato insieme. Adesso ha ragione quando dice che Berlusconi è stato un protopopulista, che Boris Johnson e Trump sono figli suoi. Però sono figli peggiori di lui. Io ne sono convinto. Io ho detto, ridendo, ma fino a un certo punto, che in confronto a Donald Trump, Silvio Berlusconi e Winston Churchill. Mi spiego meglio. La sua posizione in Europa, per l'Europa, per la Nato, per le nostre collocazioni internazionali, è stata salda. I pasticci maggiori sono accaduti in Italia. Donald Trump era ed è un uomo inquietante per tutto quello che ha fatto. Ancora una cosa. La cosa che mi è dispiaciuta e mi ha affaticato e tutti gli italiani all'estero, anche quelli che ci stanno ascoltando adesso e che hanno vissuto negli ultimi 25 anni all'estero, hanno sofferto personalmente. Perché certe uscite di Berlusconi li hanno messi oggettivamente in difficoltà, perché hanno rinforzato stabilmente tutti gli stereotipi sugli italiani che lui usava per scherzare con noi, pensando di trarne vantaggio. Ma all'estero questa roba ci ha profondamente danneggiato. Parla privatamente con i diplomatici e senti cosa ti dicono. Privatamente, perché pubblicamente non posso. E di questo lui se n'è fregato. Era certamente un uomo intelligente e non poteva non capire cosa stava provocando per la nostra reputazione. Dai! Marco Travaglio, ma forse la reputazione non era la cosa che lo interessava di più, ma oggi di questa creatura creata, fondata da Berlusconi, Forza Italia, di questo partito, che ne sarà? Ma intanto, a differenza di Beppe, io penso che Berlusconi sia stato infinitamente peggio sia di Johnson che di Trump, intanto perché è durato molto più di loro e in secondo luogo perché il conflitto di interessi di Trump è infinitamente più piccolo rispetto a quello di Berlusconi. Trump non è il padrone di metà del sistema televisivo e del più grosso gruppo editoriale. Per giunta, ricordo che Berlusconi ci ha trascinati in guerra con Bush in Iraq e poi in Libia con tutti i danni che ne sono conseguiti mentre invece Trump di guerra per fortuna nostra non ne ha scatenate. Poi l'andamento dell'economia americana con Trump non è stato disastroso come ai tempi di Berlusconi. Trump è qualcosa per gli americani e ha cercato di farlo. Berlusconi non si è mai posto il problema di fare qualcosa per noi perché era stato più impegnato a farsi gli affari suoni. In ogni caso su Forza Italia e questo è l'ultimo dei suoi fallimenti ci eravamo abituati l'abbiamo detto anche ieri a pensarlo immortale ma il primo a pensarsi immortale era lui e quindi non ha minimamente non solo non ha preparato la successione ma ha tagliato le gambe a chiunque fosse adeguato a succedergli invece di cercarlo e di allevarlo e il risultato è un partito in mano a Marta Fascina che oggi anche se la signora Craxi non lo sapeva ha ratificato le norme che erano state decise dall'ultima compagna del Cavaliere e di che stiamo parlando? È un partito che senza Berlusconi non esiste più i governativi cercheranno rifugio in Fratelli d'Italia la minoranza che fa capo a Laronzulli cercherà ospitalità nella Lega e tutto si disperderà poi vedo che c'è Renzi che si sta affannando a leccare la bara a reti unificate per cercare di ereditare qualcosa ma notoriamente lui è un Berlusconi che non ce l'ha fatta quindi non credo che gli toccherà se non qualche briciola che cade dal desco dell'ex proprietario grazie